Penso possa piacere perché racconto un affano che non c'è più di 50 anni fa. Si chiama Universi Traslati, la mostra allestita a Palazzo Bracci Pagani, che attraverso 141 scatti racconta la storia della città della fortuna degli anni 60 e 70 attraverso gli occhi e la macchina fotografica di Maurizio Tomassini, sociologo, esperto di welfare e portavoce del forum del terzo settore delle marche, che Tomassini ama e rappresenta una memoria della comunità fanese. Dai pescatori della tratta, agli anziani che raccoglievano la legna in riva al mare per scaldarsi in inverno, dalla raccolta del grano al bucato appeso in strada perché le case erano troppo piccole. Nel borgo di Piattelletti invece le donne giocavano a petrangola e i bambini a calcio e poi i ritratti, balletti e altri momenti di quotidianità. Così ho dato la mia lettura della città attraverso le fotografie del porto, della Sassonia, dei carettieri, dei calafati, dei personaggi che vivevano e che erano quotidianamente nella città in quel decennio. Sempre in quegli anni nacque anche Telefano grazie a quattro persone, tra cui Tomassini, che iniziarono a lavorare al progetto con una telecamera acquistata a Milano. Non si poteva trasmettere via Ettere e quindi ci inventammo una televisione via cavo. E questo cavo dove passava? Allora il cavo passava da Palazzo Baccarini, dove c'era la sede, diciamo gli studi, al Bar Berto, che era quello che, il bar che era proprio di fronte a Palazzo Baccarini, poi collegava tutti i bar del centro, del corso, fino al Pino Bar, perché la televisione trasmetteva a lunedì la partita di calcio. Emozioni e ricordi che potranno essere rivissuti grazie alla mostra che verrà inaugurata sabato 10 dicembre. Sarà disponibile anche un catalogo curato dal grafico Dante Piermattei, che contiene le foto in esposizione, le note del critico fotografico Enzo Carli e del regista Leandro Castellani, ma anche i racconti di Sergio Schiaroli su Telefano, di Pino Panaioli sulla raccolta degli stracci per Don Paolo Tonucci e di Roberto Boltri sul terremoto del 1980 in Irpinia. L'allestimento invece è stato curato da Carlo Bruscia. La mostra ha avuto il patrocinio della Fondazione Carifano e rimane aperta nel periodo natalizio tutti i giorni escluso il lunedì fino al 10 gennaio dalle 17.30 alle 19.30. Presidente alle sue spalle, una foto simbolo della vostra gioventù? Sì, dell'adolescenza, della gioventù, insomma un bel tuffo nel passato. Grazie a Maurizio Tomassini per questa iniziativa. La Fondazione ha concesso di buon grado il nostro spazio, la Diana Gallery, perché penso che questa sia veramente una mostra fotografica, come qualcuno dice, glocal, non soltanto locale ma anche globale, perché poi i concetti che evocano queste fotografie sono concetti che riguardano tutti. Mi auguro che anche i giovani e anche le scuole possano portare gli studenti in questo spazio, perché è uno spazio che rappresenta anche la nostra storia cittadina.